Questa mattina alla settimana della bioarchitettura e della sostenibilità dell'Agenzia dell'Energia ho presentato il progetto di riqualificazione energetica dell'Accademia Militare di Modena, in particolare di Palazzo Ducale, che è un palazzo di valenza storica, patrimonio dell'umanità, del 1600 come aspetto finale, in realtà costruito dal 1300, che richiede un intervento di efficientamento energetico di importanza enorme per il territorio, ma anche per quello che è l'impatto economico, energetico, ambientale sul territorio. Stiamo parlando di una situazione edificio-impianto in cui gli interventi migliorativi possono permettere di abbattere alcune dispersioni, per esempio quelle dei serramenti dell'ordine dell'80%, migliorare i rendimenti complessivi impiantistici dell'ordine del 50-60%, con un vantaggio in termini di risparmi conseguibili per la pubblica amministrazione e di minore impatto ambientale veramente notevoli. All'interno di tutto questo progetto la questione forse più rilevante è l'approccio a questi edifici vincolati, questi edifici pubblici di valenza storica, che è un approccio esportabile a livello europeo. La metodologia utilizzata sia in termini di approccio tecnico, sia in termini di approccio economico per il finanziamento di questi progetti, può essere utilizzata in un palazzo come il Palazzo Ducale a Modena, ma anche in un qualsiasi edificio analogo in giro per tutta Europa.